No, io non penso che le due cose siano legate tra loro. La direzione è iniziata, c'è stato un dibattito, continuerà certamente quel dibattito e poi sarà posta la parola finale sulle regole del Congresso, soprattutto sulle date del Congresso, che come già più volte detto dai Pifani sarà fatto entro il 2013.